Ciao, sono arrivato all'analisi e vediamo insieme se capite qualcosa perché io non ci capisco un cazzo qua parla dei trans trans, aminasi, gu ast, ast e cazzo, 23 ma l'azoto, azotemia 41,8 ma coglioni altri trans qua, e che è tutti i stiti di trans qua, trans, aminasi GP, alt, alt 26,7 pare buono gamma questa è tipo una moto gamma gt 36.1 vabbè questa questa è il numero 1 creatinimia creatinimia 0,91 da paura poi c'è fosfati alcalina questa è tipo una pila 143 poi vabbè il polisterolo 155 dovrebbe essere buono idricigli a 67,7 dovrebbe essere buono oh pare che so bene e poi che ce sa sodiemia potaziemia coloremia fosforemia calcemia e magnesimia tutto mio tutto buono tutto buono non vi preoccupate dovrei campare almeno altri 6 mesi ho 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 Grazie a tutti.